Dopo questi ragionamenti di alta filosofia e questi ragionamenti mi sono andato al Carneval insieme a tutti quelli del gruppo costruttori di Arco. Allora, manifesti, libretti, programmi, internet, facebook, sento spot al di sulle radio, 5 radio del Trentino. Solite domande di quelli di Arco che chi veramente mi fa nazzo le asse. Voi sapete cosa vuol dire nazzo le asse? Saria come quei che dirmi nazzo... Allora, le domande sono sempre queste. Ma stanno, fai ancora il Carneval? Mi dice quella da Stranford. Ma quella fuori da Canneville mi ferma e mi dice Ma fai ancora i cari? E fai ancora pagare? Tutte domande che veramente... Ecco, dopo che ne è una di San Martino che lavora a chi ha regina, no? Che l'ha scritta su Facebook quando mi ho messo le foto di tutti i cari, no? Ho visto il vostro Carneval e il fe va schifo. Va bene, va bene, che posso fartemi se il fe va schifo? Dopo un'altra, un'altra, no? Che è il maschio, lei è da Bolognano questa qui. L'ha scritta che bello che erano i cari di una volta, no? Mi ha detto anche a te una volta che eri una bella putella, adesso sei in cesso. Non capi perché la sei arrabbiata, no? Tutto con la sei arrabbiata. Allora, mi dico, ma... Vieni a dirmela a me che ho scominciato la prima volta a fare i cari nel 1968. Quando tre quarti di voi che scrive su Facebook, no? Tutte le vostre monaie non erano neanche ancora nati. Quando mi ho vinto insieme al gruppo, che allora si chiamava, male mio che non dica perché adesso sono tutti insieme, ma ho vinto 10 archi d'argento, quando nei concorsi del carneval sono arrivati 12 volte al secondo. Ma pensai che forse qualcosa sui cari potrei dire anche a me? Allora, mi non è perché vuoi cavarvi qualche chassè dalla scarpa, però siccome il 4 di marzo noi finì, no? Se avevo voglia di venire senza polemica, no? Nessun comune che sarà il 4 di marzo o no, ma se il 12, se il 13, che sarà la nuova giunta comunale. Nessun che dice, guardate che qui 4, 5, 6, 10, 15, 20, 30, sempre i suoni del gruppo costruttori, noi è buoni di far niente, venirei avanti a me. Tanto noi, guardate, tranquillamente, senza polemica, noi sappiamo cosa fare via del carneval, se non fanno il carneval fanno qualcos'altro, fermi, stai tranquilli, che noi non siamo buoni di fare. Allora, sapete cosa vi faccio? Guardate, faccio un brindisi a tutti voi, no? Venendo, venerdì prossimo, al 28 di febbraio, alla Corrida, ne vediamo lì, no? Allora, da Telegarda a Trentino, e viva il carneval di Arco, perché il carneval non l'è. Né mio, né il gruppo costruttori, né del sindaco che è, ma l'è della città. Salute e un brindisi a tutti quanti.